Salve a tutti, io sono Valeria del sito Le Perle di Vale. Vi volevo presentare con questo piccolo video il mio ultimo acquisto ed è la Silhouette Cameo, che è una macchina per tagliare il cartone, cartoncino, stoffa ed è adatto per chi fa scrap ma anche modellismo. Io l'ho acquistata dal sito graftech-italia.it poi vi metterò il link perché io con l'inglese non sono molto afferrata. Vi volevo far vedere innanzitutto quello che arriva nella confezione ed è ovviamente la macchina. Poi c'è questa che è il tappetino da taglio e si toglie la carta di protezione e questa è, diciamo, c'è un po' di colla in modo che quando si mette il cartone stia ben teso e ben fermo. Poi nella confezione vi è questo cd che è un'introduzione video e vi fa vedere i primi approcci con la macchina. Poi c'è questo che è il software che serve per elaborare le immagini. Diciamo che questo software serve anche per costruire un'immagine, però non è detto perché se una persona non è molto esperta in grafica si può andare nel sito, si può acquistare un disegno per poi stamparlo e questa è proprio la card che serve per andare nel sito e diciamo con questo si ha uno sconto di 10 dollari che è circa 7-8 euro se non sbaglio. Poi nella confezione logicamente c'è questa che è la lama che vi farò vedere come si inserisce e questo serve per settare i numeri. In base alla grossesse del cartone dobbiamo mettere il numero giusto. Per inserire la lama apriamo il coperchio, lo si infila in questo nell'apposito spazio e si gira per bloccare la lama ed è fatto. Per accendere la macchina si preme questo tasto, vi faccio vedere ben avvicino, la macchina si accende e io per il momento l'ho configurata, lo lascio in questa opzione qua, perché anch'io diciamo che sto facendo diverse prove, perché anch'io non la conosco proprio al cento per cento quindi ed è una settimana che l'ho. Come dicevo queste sono le istruzioni in inglese purtroppo, però so che ci sono anche le istruzioni in italiano, poi lo chiederò anche al ragazzo dove poter andare, dove l'ho comprato. Ah, nel sito dove l'ho comprato ve lo consiglio vivamente perché c'è un ragazzo veramente disponibile per qualsiasi cosa ed è molto gentile e tra l'altro vi dirò che il sito suo è uno tra i più, quello più economico, non tra, è quello più economico almeno per quello che ho visto io in Inten, perché ho fatto diverse ricerche, ho contattato anche un altro signore, però ripeto, da lui comperi, arriva la merce, ma è già compresa di IVA e in questo caso era anche compresa di spese di trasporto, di spedizione, che molto spesso nel sito IVA e trasporto sono a parte, quindi io vi consiglio veramente di andare a visitare il suo sito, come ho detto vi lascerò il link poi e diciamo che chi fa lo scrap per me è indispensabile questa macchina, a differenza di altre macchine che sono molto limitate, questa invece non ha limite, cioè c'è solo la vostra fantasia che può avere un limite. Io vi saluto e vi do al prossimo video che farò un video sui tatuaggi e spero che vi sia di aiuto. Ciao! Ciao!